Ad oggi ci siamo ritrovati ad avere dei danni nuovamente nelle strutture, a perdere lo spessore degli arrenili, uno spessore importante. Ci stiamo trovando svariate decine di migliaia di euro di danni agli impianti, alle strutture stesse. È una situazione difficile. Però ci sono stabilimenti, concessioni che sono veramente in condizioni pietose. Sì, in effetti ci siamo trovati in questa situazione dove abbiamo degli stabilimenti che hanno retto meglio l'urto del mare e questo è accaduto dove siamo ben difesi dalle barriere delle scogliere. Altro non è invece dove abbiamo le scogliere che hanno bisogno di manutenzione o addirittura dove le scogliere mancano e lì abbiamo avuto i casini più grossi. Andiamo nella zona sud di Fano dove la scogliera ha bisogno di essere risistemata quanto prima e lì abbiamo avuto dei disastri. Andiamo nella zona centrale della Sassonia dove mancano le scogliere e lì abbiamo avuto un casino. Stessa cosa a Gimarra, Arzilla, ugualmente dove le scogliere hanno bisogno di essere ripristinate o comunque sia rifatte e lì abbiamo avuto queste problematiche maggiori. Avete fatto un comunicato, avete fatto un ulteriore appello, che cosa vorreste che fosse fatto a breve? Noi, come diciamo sempre in tutti gli incontri, vorremmo quanto prima che tutte le parole che vengono sempre spese si trasformino nei fatti il più velocemente possibile. Noi a breve abbiamo bisogno di ripristinare dove devono essere fatte le scogliere, dove devono essere realizzate e che vengono realizzate quanto prima. E quello che chiediamo ad oggi, forse nella più immediatezza, sì tutte le opere sulle scogliere e quant'altro, però sono dei procedimenti che magari richiedono un pochino più di tempo. Ad oggi stiamo chiedendo di fare un summit anche con Regione Comune e perché no Protezione Civile per capire come possiamo difenderci, quali mezzi possiamo mettere in campo o soluzioni da mettere in campo per poter difendere le nostre strutture in questo periodo di invernali che subiamo le mareggiate. E quindi noi oggi chiediamo anche sì le scogliere, ma dateci la possibilità di poterci difendere con le dune che stiamo facendo, saccuni che stiamo mettendo. Ci sono altre soluzioni? Non lo so, ragioniamoci, però incontriamoci, aiutateci a capire come possiamo imporre un rimedio per poterci salvaguardare da queste mareggiate.